Ciao raga, allora spero intanto che vi va tutto bene, saluto tutti quelli che ci stanno sempre vicini, però quest'Instagram Stories è per la gente che rompe le palle e voglio togliermi un sassolino dalla scarpa molto velocemente. Stagram Stories è per quelli che rompono un po' le palle e perché? Io non capisco che cazzo di problemi avete dopo nove mesi ancora a scrivere e ci nevrono nel culo, ci nevrono nelle tette, ci nevrono brutta. Per me siete delle persone con dei problemi, ma veramente gravi, se avete bisogno di denigrare, scrivere queste cazzate, a quale pro? Pensate voi che a me freghi qualcosa di quello che queste cattivere dicono. A parte che io da persona innamorata vedo che Ginevra è bellissima, l'ho sempre vista bellissima e ad oggi l'era ancora più bella di come era prima. Poi, se non avrà la quarta di seno, se non avrà il seno di fatto, a me non me ne frega anzi.